Sara Tommasi non smette di far parlare di sé. Dopo lo scoop della voce sulla lavorazione a Budapest del suo terzo film porno, con l'ex Jeffino Nando Colelli e l'ex Efecchione Luca Tassinari, il manager dell'ex Bocconiana, Federico De Vincenzo, ha anticipato che Sara e i suoi pornocolleghi gireranno almeno un nuovo film arde ogni due mesi. Poi Sara si è lasciata andare al suo sogno erotico professionale, girare un film porno con tutta la squadra del Milan. Se è vero che tanta gente ha voglia di vedermi in azione, allora vorrei girare un porno con Milan, ha dichiarato. La showgirl che risulta legata ai calciatori rossoneri dai tempi dell'università ha poi fatto riferimento alla sua relazione con Super Mario. Con Balotelli abbiamo avuto una storia di una sera, un capriccio. Conoscevo la sorella naturale, Abigail. Lei ha chiamato Mario, ci siamo incontrati e abbiamo passato la serata insieme in un hotel milanese. Bella nottata, ma non ci siamo più rivisti. Ciao! Ciao!